Ryan, quindi sono molti gli attacchi di squalo contro i surfisti, ma cosa ne pensi tu? Credi davvero che lo squalo punti volutamente i surfisti? C'è qualcosa nella psiche umana che scatta quando galleggi sulla superficie dell'acqua. Non riesci a vedere in profondità e questo ti spaventa molto di più perché quando sei immerso nell'acqua vedi gli squali che ti circondano, conosci il loro ambiente, mentre quando sei in superficie è come se fossi sospeso in aria e gli squali sono lì, sotto di te. Una cosa che bisogna fare è controllare la paura, i pensieri che hai in testa e le azioni che compi.